come partire da zero su subito.it per avere vendite costanti ciao sono daniele per gli amici subri e oggi voglio farvi un tutorial su come partire da zero su subito e vendere i vostri oggetti online prima però di addentrarci nelle vendite online ricordatevi di iscrivervi al canale soprattutto cliccare sulla campanella degli avvisi per non perdere neanche uno dei contenuti che ogni settimana escono qua sul canale nei quali parlo di come vendere online a 360 gradi la nostra piattaforma made in italy per vendere online è una grandissima risorsa per chiunque voglia vendere usato ma anche nuovo ora partiamo con la prima cosa da fare ovvero l'iscrizione se non siete già iscritti l'iscrizione potete farla in modo semplicissimo dal computer e anche dallo smartphone come sapete io preferisco il computer per vendere online per tutta una serie di ragioni che ho già spiegato in tanti altri contenuti ma so che tanti di voi utilizzano lo smartphone quindi farò il tutorial basato proprio su quest'ultimo se poi avete bisogno di un video specifico su come funziona subito da computer playlist in descrizione dove ci sono tutti i video inerenti alla piattaforma la registrazione in base allo smartphone potrete farla con l'account apple google facebook oppure inserendo classico mail e password ma ci saranno altri dati da inserire come data di nascita comune di residenza e quant'altro se farete l'accesso rapido con google facebook apple comunque questi dati saranno da inserire successivamente dopo aver fatto la registrazione prima cosa che vi consiglio di fare cliccare in basso a destra dove c'è il vostro account poi nelle impostazioni pagamenti dove dovrete inserire proprio i dati per ricevere i soldi in questo caso bonifico bancario oppure paypal solo ed esclusivamente questi due metodi di pagamento saranno accettati per accreditare i soldi degli oggetti che venderete sulla piattaforma io personalmente ho provato ad appoggiare un iban lituano ovvero revolut e non mi ha dato problemi mi raccomando dovrete anche inserire i dati dell'intestatario che sono importanti per farvi identificare dalla piattaforma per ora non ho riscontrato problemi ad inserire i dati dell'iban ad una persona e l'account di subito intestato ad un'altra persona ancora però tutto ciò potrebbe anche variare nel tempo iniziamo col mettere in vendita un oggetto semplicissimo bisognerà cliccare il tasto centrale dove c'è scritto vendi e successivamente bisognerà scegliere la categoria esatta per l'oggetto che starete vendendo attenzione però cosa molto importante che vale per tutte le piattaforme ovvero se non c'è la categoria adatta al vostro oggetto vuol dire che quell'oggetto non si può mettere in vendita inizialmente l'applicazione vi farà mettere le foto al vostro annuncio molto semplice da fare e anzi da anche tanti consigli proprio la piattaforma stessa subito permette anche di fare delle foto al momento e non scegliere dalla galleria io personalmente vi consiglio di sceglierle dalla galleria proprio perché il risultato sarà diverso potrete magari editarle o comunque fare delle foto migliori rispetto a fatte al momento così un po a caso subito dopo si potrà scegliere se mettere l'annuncio in vendita oppure in regalo e poi si passerà al titolo fortunatamente subito indicizza sia titolo sia descrizione quindi il titolo esemplificativo breve che vada dritto al punto subito dopo sarà proprio il momento della descrizione e qui essendoci 2000 caratteri a disposizione vi consiglio di farla il più dettagliata possibile inserendo più parole chiave possibili proprio perché in questo caso l'utente che cercherà il vostro oggetto lo ricercherà per determinate parole chiavi che dovranno essere in descrizione soprattutto non dovrà mancare anche qualcosa inerente ai pagamenti spedizione e anche eventuale incontro di persona il mio consiglio è quello di fare un copy and colla con una frase standard che vada bene un po per tutti gli oggetti come ad esempio se volete ritirare l'oggetto di persona sono disponibile solo al pomeriggio in questa determinata città e poi posso anche accettare i pagamenti dedicati della piattaforma come tutto subito oppure esterni e per la spedizione ci accordiamo in privato o cose del genere oltre alla frase finale come ho detto prima la descrizione sarà indicizzata quindi molto importante utilizzare anche i sinonimi delle parole che state utilizzando per descrivere il vostro oggetto faccio sempre l'esempio classico gioco playstation 2 si può anche chiamare videogioco ps2 e via dicendo oppure tutto quello che descrive appieno un oggetto maglia di cotone con stampa dito polino che scia ad esempio e quindi sbizzarritevi insomma però usatele il più possibile le condizioni dell'oggetto poi saranno le più disparate quasi potranno vendere oggetti nuovi usati ma anche quelli danneggiati mi raccomando però non mettete a caso una cosa così tanto per perché poi l'acquirente potrebbe anche lamentarsi dicendo me l'hai dato in ottime condizioni in realtà è solo buone quindi fate molta attenzione a fare delle belle foto e magari riportate in descrizione anche quali sono i difetti dell'oggetto soprattutto per quelli rotti dopo le condizioni dovrete inserire il luogo dove si trova l'oggetto e io vi consiglio di inserire quello reale per evitare qualsiasi tipo di problema mi è capitato più volte in passato di concludere affari su subito di persona e io metto sempre cuneo come città ovvero la città dove sono io se poi l'oggetto me lo porto dietro magari sposto la città così viene indicizzato su un'altra città l'importante però è mettere luogo reale perché ad esempio un cliente che può contattarvi dalla provincia di torino e voi avete messo torino città lui si sposta in torino vi contatta dicendo te lo compro oggi perché sono al lavoro qui magari voi siete a 100 chilometri di distanza perché avete messo torino perché la città più grossa e no e così vi bruciate una vendita e fate anche brutta figura la questione del prezzo su subito è un po così mi fa storcere un po il naso perché è facoltativo io lo metterei obbligatorio grazie proprio all'inserimento del prezzo innanzitutto eviterete tanti per di tempo e soprattutto il cliente finale potrà fare un acquisto diretto immediato del vostro oggetto grazie a tutto subito per evitare di svendere il vostro oggetto o metterlo troppo caro fate sempre un giro sulla piattaforma di subito per vedere nella vostra città oppure in città limitrofe o anche in tutta italia se il vostro oggetto viene venduto e a che prezzo proprio per automatizzare la vendita come vi ho spiegato prima qua potrete poi scegliere se abilitare o meno la spedizione ovviamente per un oggetto ingombrante potrete disabilitarla mentre per gli altri vi consiglio di lasciarla attiva tramite chat vi potrete comunque accordare con un ipotetico acquirente anche se disabiliterete la spedizione per oggetti spedibili però io vi consiglio di tenere attivata quella con tutto subito perché in effetti è molto vantaggiosa e fa vendere anche di più la gestione automatica del pagamento e della spedizione avverrà proprio con il sistema tutto subito e qui potrete scegliere innanzitutto le diverse dimensioni del pacco in base a quanto sarà grosso ingombrante e pesante il vostro oggetto quindi vi consiglio di fare un po' una stima prima e soprattutto potrete anche scegliere i corrieri che i clienti potranno decidere per la spedizione poste italiane è obbligatorio da lasciare non si potrà togliere brt ed impost per ora sono disattivabili logico che più possibilità date all'acquirente più ci sarà possibilità di vendere il vostro oggetto. La seconda opzione per quanto riguarda la spedizione per oggetti un po' più ingombranti che non staranno nelle dimensioni e nel peso che subito propone è quella personalizzata qui dovrete solo inserire il prezzo ma dovrete voi occuparvi della spedizione mentre nel primo caso l'acquirente pagherà direttamente la spedizione a subito e sarà la piattaforma a gestire tutto voi riceverete solo i soldi del vostro oggetto qua riceverete i soldi dell'oggetto più spedizione quindi dovrete anticiparli voi proprio per spedire l'oggetto che dovrà essere spedito tramite poste impost bartolini o qualsiasi corriere che potrete prenotare online su qualsiasi sito vogliate logicamente in questo caso consiglio spedizione tracciata. Vi ricordo infine che il numero di telefono è sempre obbligatorio da inserire ma si potrà nascondere. Io personalmente lo tengo sempre nascosto perché tramite chat di subito si può scambiare di tutto foto eventualmente info aggiuntive e tramite numero di telefono alle volte ci sono solo tante truffe e scocciature quindi vi consiglio di utilizzare la chat anche per l'incontro di persona. Una cosa molto importante da capire quando vorrete vendere un oggetto su subito è che la vendita per ora è completamente gratuita infatti sarà l'acquirente finale anche se si avvarrà del servizio di tutto subito come ho detto prima innanzitutto a pagare la spedizione sia nel primo sia nel secondo caso anche della personalizzata e la protezione acquisti la pagherà sempre l'acquirente il venditore non avrà spese. Per la precisione devo dirvi che nei passi finali ci saranno delle opzioni a pagamento ma sono per adesso del tutto facoltative quindi alla fine dell'annuncio potrete scorrere il tutto andare a pubblicare a costo zero. Secondo me è molto utile utilizzare i servizi integrati delle piattaforme di vendita in questo caso tutto subito. Utilizzare in questo caso il servizio di pagamento integrato darà all'acquirente sicuramente più fiducia quindi potrete avere più possibilità di vendere il vostro oggetto. Come detto in precedenza non è obbligatorio potrete anche scrivere in descrizione accetto pagamenti con bonifico poste pay paypal beni e servizi e l'acquirente quindi si metterà d'accordo con voi in chat dicendo dammi gli estremi per il pagamento vi fa il pagamento spedite l'oggetto e siete a posto però tutto ciò logicamente scoraggerà quelli un po' più navigati della piattaforma. Ponendo il caso che abbiate venduto il vostro oggetto vi spiego come funziona la trattativa e soprattutto come incassare i soldi. L'acquirente interessato potrà fare due cose acquistare direttamente il vostro oggetto proprio tramite tutto subito oppure richiedere in chat info aggiuntive come foto descrizioni ulteriori oppure informazioni relative al funzionamento e si potrà fare tutto tramite chat di subito senza scambiare per l'appunto telefono mail dati sensibili. A prescindere ad oggi come detto anche prima consiglio di usare la chat di subito proprio come consiglia anche la piattaforma per evitare le truffe ma quello lo vedremo dopo. Come detto in precedenza potrà anche non chiedervi nulla a un acquirente perché siete stati chiari ed esaustivi con foto e descrizione quindi procedere direttamente all'acquisto dell'oggetto pagarlo con tutto subito e aspettare solo una spedizione da parte vostra. Attenzione però perché ci potrà anche essere la possibilità di un'offerta a ribasso in questo caso l'acquirente potrà digitare l'offerta manualmente a ribasso rispetto a quello che avete proposto voi come prezzo di vendita a voi arriverà la notifica e potrete decidere se accettare la proposta oppure no. Magari potrete fare anche un'offerta leggermente più alta ma non come quella del prezzo che avete indicato in annuncio. Logicamente se farete una controproposta sarà l'acquirente a poter decidere se accettarla o meno e se l'accetterà solo a quel punto subito dirà ok adesso paga l'oggetto quindi non sarà più automatizzato come prima però avrete comunque la possibilità di trattare. Una volta che vi sarete accordati tramite proposta oppure l'acquirente avrà direttamente comprato l'oggetto solo a quel punto subito in chat vi manderà l'effettiva conferma della vendita e in automatico anche la possibilità di scaricare l'etichetta di spedizione se avete gestito tutto con tutto subito oppure dovrete voi spedire l'oggetto se avete scelto la spedizione personalizzata. Mi raccomando però in questo caso occhio al pacco fatene uno molto robusto indipendentemente dall'oggetto che state spedendo. L'acquirente alla fine potrà lasciare una recensione quindi anche se si tratta di un oggetto non fragile mettete comunque un minimo di imballo fate un pacco decente non le classiche buste che vedo a volte intorno agli oggetti che lasciano il tempo che trovano perché così farete anche felice un acquirente. Se la spedizione sarà gestita da tutto subito quando l'oggetto sarà nelle mani dell'acquirente quest'ultimo avrà 72 ore per confermare che sia tutto ok e a quel punto i soldi verranno in automatico sbloccati sul vostro saldo e finiranno direttamente sul metodo di pagamento scelto. Attenzione però perché per le spedizioni invece gestite da voi quindi quelle personalizzate l'acquirente avrà 20 giorni di tempo per confermare l'effettivo arrivo dell'oggetto da quando ha concluso la trattativa quindi non 20 giorni da quando spedirete ma da quando lui ha effettuato il pagamento questo perché subito non può monitorare la spedizione. Subito però non fa nulla a caso quindi non preoccupatevi se nel primo caso che abbiamo visto dopo le 72 ore lui non conferma l'effettiva ricezione del pacco perché in automatico la piattaforma vi sbloccherà i soldi. Nel secondo caso passati i 20 giorni sempre in automatico subito sbloccherà i soldi. Io comunque vi consiglio se vedete dal codice di tracciabilità che il pacco è arrivato di scrivere magari un messaggio all'acquirente ciao come va tutto bene ho visto che hai ricevuto l'oggetto è tutto a posto hai qualche problema o qualsiasi altra frase per sbrogliarlo un po' da effettivamente cliccare su questo benedetto pulsante e come vi ho detto prima il pagamento arriverà direttamente su bonifico paypal come avrete impostato all'inizio per quello che vi ho detto impostate lì subito così poi sarete a posto. Come sappiamo bene però scam e truffe sono sempre dietro l'angolo quindi vediamo come evitarle. La prima truffa che può organizzare un qualsiasi acquirente in malafede è quella di dirvi ehi scusa ma mi hai mandato una matita e io invece ti ho comprato delle scarpe come mai in questo caso mi raccomando no panic perché prima di spedire l'oggetto all'acquirente fate un bel video dove mettete le vostre scarpe nella scatola la chiudete tutta mettete sopra l'etichetta di spedizione e così se l'assistenza vi chiederà delle prove le avrete senza alcun problema e sarete in una botte di ferro anche perché quando andrete in posta rifarete una foto all'etichetta di spedizione quando la postina dirà effettivamente il peso di quello che c'era dentro la scatola. Le altre truffe invece sono un po' più facili da beccare ancora prima perché gli acquirenti cercheranno di portarvi fuori dalla chat di subito. A meno che non ci sia uno scambio a mano e anche lì sono molto restio a dare il mio numero di telefono alcuni acquirenti potrebbero chiedervi proprio il numero di telefono l'email o qualsiasi altro dato per chattare fuori dalla chat e come vi ho detto prima la piattaforma lo sconsiglio e io ve lo sconsiglio proprio perché vi manderanno una sorta di link da cliccare che vi farà inserire i dati della vostra carta dicendo così almeno concludiamo l'affare su subito quando in realtà sarà tutto un sito fake cosa che oltretutto già trattato in un mio video che trovate nella playlist in descrizione. Attenzione però all'invio di pdf tramite chat perché anche quella è un'altra truffa. Ultimamente sto vedendo tanti account fake che mandano ai venditori dei pdf con il resoconto dell'acquisto come se avessero acquistato veramente e anche lì in realtà non hanno acquistato se voi aprite il pdf cliccate sui link interni vi porterà fuori dalla piattaforma e anche quella è una truffa quindi allegati vari ed eventuali proprio ignorateli. Un piccolo trucchetto per vedere se effettivamente l'acquirente è acquistato e non è una truffa è quello di andare nel vostro account nella sezione degli ordini dedicata alle vendite e vedere se effettivamente c'è la vendita registrata. Se in quel caso c'è la vendita potrete vedere se è stata già pagata e a che punto è addirittura la spedizione seguirla in toto. Solo ed esclusivamente in questo caso vorrà dire che effettivamente c'è stata una vendita altrimenti qualsiasi altro link frase o cosa strana vi mandino per chat dicendo ehi ma io ho acquistato se non c'è quello che vi ho appena detto non è vero non hanno acquistato proprio nulla. L'ultima questione che è un insieme di questioni la voglio trattare perché in effetti subito limita un po' la vendita ai privati e vi spiego perché. Subito non darà la possibilità di mettere tanti annunci in una categoria ad esempio 20 30 40 annunci nella categoria elettronica ma vi limiterà a un tot di annunci in genere meno di 10 dopodiché vi dirà hai finito la possibilità di inserire oggetti di conseguenza dovrete cancellarne alcuni oppure venderne uno per poi inserirne quelli di nuovi ma il multi account è possibile. Io attualmente gestisco sei account diversi e tutti hanno il proprio numero di telefono la propria email il proprio conto bancario o paypal per ricevere i pagamenti intestati a sei persone logicamente diverse e soprattutto ogni account ha il proprio dispositivo computer o smartphone che sia. Le tasse però sono un altro argomento molto importante perché alcuni di voi mi hanno scritto eh ma subito mi ha mandato il modulo da compilare della DAX 7 perché ho venduto più di 30 oggetti e certo è come tutte le piattaforme devono sottostare a questa direttiva europea quindi anche subito comunicherà all'agenzia delle entrate tutti i dati del caso mi raccomando modulo obbligatorio da compilare altrimenti vi chiuderanno l'account quindi molta attenzione a chi intestate l'account. Tutto quello che abbiamo visto fino ad ora è come partire da zero su subito per avere delle vendite costanti evitare le truffe e andare in una botte di ferro quando si vende un oggetto. Se però avete altre domande dubbi o curiosità sezione commenti sempre aperta e soprattutto playlist con tutti i video di subito in descrizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.